Bentornati a pomeriggio 216, ultimo atto del nostro pomeriggio insieme, intanto stavamo bevendo un goccio d'acqua, io e Silvia Colizzi, psicologa clinica, ben ritrovata Silvia. Ciao Valentina, ciao a tutti gli amici che ci seguono. Buon pomeriggio 216 e tra l'altro parliamo di un argomento oggi molto interessante che è quello legato alla pre-adolescenza, ma soprattutto legata a una parola d'ordine che è cambiamento. D'altra parte Silvia tu lo sai molto bene, i cambiamenti nell'età della pre-adolescenza e poi anche quella dell'adolescenza sono all'ordine del giorno ed è difficile anche accettarli. Ma soprattutto oggi vorrei concentrarmi con te su una frase chiave, come la mente influenza e cambia il nostro corpo, o meglio come il corpo stesso allo stesso tempo, perché poi è anche un po' un gioco correlato, cambia i nostri pensieri, il nostro modo di vederci. Esatto, perfetto. Ci pensavo proprio oggi a questa cosa, quando ero io una pre-adolescente, quanto alcune cose del mio corpo non mi piacevano e invece oggi vanno bene. Eppure tu sei sempre la stessa effettivamente, hai cambiato il tuo modo di vederti, di accettarti. Esattamente. Partendo da qui facciamo un po' il ragionamento su quello che è la pre-adolescenza, che è un'età che, inquadriamo un attimo, va dai 10 ai 14 anni, cioè include tutti i tre anni delle scuole medie. Perché il ragazzo entra nelle scuole medie, è ancora un bambino e molto spesso durante quell'estate avvengono tantissime trasformazioni fisiche, cioè ci si ritrova il primo giorno della scuola media e non ci si riconosce più. Forse se noi riusciamo ancora, io almeno, che ho un po' più di anni di te, mi ricordo ancora quelle compagne che erano già sviluppate, i ragazzi che erano già quasi degli adolescenti e invece quelli che erano un po' bambini. Quindi immaginiamo come in quella fascia d'età ci siano dei cambiamenti improvvisi a livello corporeo e in nessun'altra fase della vita osserviamo tutti questi cambiamenti fisici e di conseguenza, come hai detto tu, anche psicologici. Quindi è importante capire come fa il ragazzo ad adattarsi a questo nuovo modo di vedersi allo specchio, fondamentalmente è al modo anche in cui gli altri lo guardano. Quindi possiamo dire innanzitutto che in questa fase siamo nello sviluppo puberale, quindi lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari. Nella ragazza abbiamo sicuramente lo sviluppo del seno, delle forme corporee, il ragazzo che improvvisamente cresce in altezza e si trova magari molto magro e molto distante da quella che era la sua idea di fisicità dell'essere grande, muscoloso. Quindi tutti questi cambiamenti hanno un forte impatto a livello psicologico. In che modo? Prima di tutto i ragazzi si trovano ad osservare i cambiamenti ma non ne sono ancora partecipi, quindi devono fare un grande sforzo di accettazione, di comprensione. Quindi possiamo magari essere quelli un po' più sviluppati della classe oppure quelli che sono ancora dei bambini. E lì si gioca un po' questo gioco di relazioni, no? Poi parleremo dopo anche di com'è l'impatto del giudizio degli altri. Comunque quello che possono fare i ragazzi a questa età è un'osservazione che in alcuni casi la maggioranza è una semplice, come dire, un'accettazione di quello che cambia, in altri casi invece è il tentativo di mascherare, di contenere un pochino questo cambiamento. Ad esempio le ragazze che allo sviluppo delle forme del fisico lo associano un po' non tanto allo sviluppo della femminilità quanto è sono ingrassata, quindi non mi piaccio più. Oppure il ragazzo che cresce ma, come ho detto prima, è troppo magro. Oppure ha il cambiamento della voce e la voce non gli piace perché diventa un po' più profonda. Immaginiamo quindi come ci siano tutti questi tentativi di adattare, no? Che noi adesso magari da adulti diciamo non sono così importanti e per questo è importante anche parlare al genitore di queste cose perché il genitore potrebbe dire al ragazzino che gli dice mamma mi hanno preso in giro perché mi è venuto il vocione. Però è proprio per questo che ne parliamo, per far capire come a questa età ci sia una sensibilità maggiore rispetto al giudizio. Cosa accade? La ragazza potrebbe mettere ad esempio un abito di due taglie più grandi per coprire le forme. Oppure il corpo viene utilizzato per canalizzare e comunicare altri tipi di messaggi. Quindi c'è questa moda, aderisco a questa moda che magari può essere, ai miei tempi era la moda un po' rap, ricordo. Quando facevo le medie magari ci si vestiva con vestiti un po' più larghi. E adesso ad esempio ci sono le mode dark, le mode dove ci si veste tutti scuri e in qualche modo si vogliono anche trasmettere altri messaggi. Magari anche di disagio. Assolutamente, poi c'è un discorso che è un po' seguo la moda e l'altro discorso è ti sto trasmettendo un messaggio attraverso il mio modo di vestirmi, di truccarmi, di addobbarmi. Ecco stavamo facendo anche un po' un paragone tra i tuoi tempi che poi Silvia non è che mica anziana tra l'altro. No ma io in questo momento inizio a sentirmi... Sei nella crisi di mezza età, dottoressa, davvero? Inizio a sentirmi un po' più grande? I ragazzi che magari sono giovani che seguo, che sento molto di... però no. Forse anche perché il mondo scorre talmente veloce che a volte facciamo veramente fatica un po' a stargli dietro. Però quello che volevo, anche su quello su cui volevo riflettere con te, è che soprattutto negli ultimi anni questo problema del cambiamento, dell'accettarsi, è diventato estremamente attuale. Proprio per il discorso che la centratura del corpo è diventato di interesse a livelli stratolfedici, forse anche per i messaggi che vengono comunicati sui social, su questa immagine del corpo sempre perfetto, è difficile relazionarsi con tutti questi stimoli esterni. È verissimo. Anche noi ai nostri... vabbè, ai tempi, ormai, penseranno chissà quanti anni ha. Comunque, c'è sempre stato il problema della preadolescenza, cambio da bambino, divento adolescente. Per oggi il corpo purtroppo, nel bene o nel male, è importante. Cioè, il ragazzo capisce che se mi pongo in un certo modo, se ho una certa fisicità, ho più successo. Prima eravamo un po' più incoscienti. Cioè, c'era un po' questa aspettativa di essere belli, apprezzati, però era un po' più relata al fatto che magari il compagno ci guardava un po' di più. O, non so, il ragazzo che faceva un po' più breccia nel cuore delle ragazzine. Adesso sono un po' più consapevoli di tutto, no? Tutto cambia molto più in fretta, come hai detto tu. Perché? Perché? Allora, facciamo un pochino di riferimenti al fatto che il bambino ha più contatto con il mondo degli adulti. In che modo? Il genitore veste il bambino come un piccolo adulto. Giusto, non giusto? Ormai il mondo va così, però effettivamente la moda porta a vestire il bambino, a pettinarlo, guarda come sei bello, guarda che sembri come il calciatore che ti piace. E quindi è tutta una serie di riferimenti che possono anche portare il ragazzino o la ragazzina a pensare che bello, se un domani ho questa forma, posso piacere di più, posso avere più successo. Dall'altra parte abbiamo anche il fatto che noi conosciamo gli adulti non solo nel loro ruolo sociale, come accadeva una volta. Cioè il maestro era il maestro, parlo di me, la psicologa era la psicologa, quella serie è tutta nel suo studio. In tv c'erano i personaggi ma non sapevamo niente della loro vita privata. Adesso ci sono i social, ci sono i reality, sappiamo un po' come vanno le loro dinamiche. Quindi il ragazzino guarda e vede come vorrebbe essere un domani, cioè ci sono delle aspettative che non sono più solo nella loro fantasia, ma sono molto realistiche. Si chiama preinvestimento narcisistico, senza arrivare al narcisismo della patologia narcisistica, però sicuramente il bambino si aspetta un po' di più da questo cambiamento. Quando il cambiamento non è così eclatante, c'è lo scarto tra quello che vorremmo essere e quello che siamo, ci crea un po' più di difficoltà. Ecco, mi sembra di capire che fondamentale in questo discorso è il significato dell'immagine corporea. Come possiamo definirlo? Riusciamo a dare una definizione, una panoramica dell'immagine del nostro corpo, che talvolta risulta essere anche un po' distorta? Sì, immagine corporea vuol dire come noi percepiamo noi stessi il nostro corpo e come gli altri vedono il nostro corpo, quindi quello che noi pensiamo che gli altri pensino di noi, non tanto quello che noi siamo davvero. Se da una parte ci sono dei semplici adattamenti che portano il ragazzo a vestirsi in maniera diversa, dagli altri ci possono essere anche dei cambiamenti più sul versante psicopatologico. Quindi, per esempio, vedere un aspetto di una parte del nostro corpo come molto più grande di quella che è, molto più brutta di quella che è. Per esempio, non accettiamo la forma del nostro naso, oppure le nostre orecchie sono a sventola, non ci piacciono, abbiamo le gambe grosse, tante cose, no? Quindi il ragazzo a questa età può raccontare anche a casa i genitori magari che ha questo difetto e vede improvvisamente questo difetto, non l'aveva visto fino a poco tempo prima, e improvvisamente lo vede in maniera esageratamente grande. Questo prende il nome in clinica di dismorfismo corporeo e sicuramente per parlare di dismorfismo corporeo necessitiamo del fatto che il ragazzino lo viva con grande disagio e quindi cerchi di camuffarlo, nasconderlo e evitare anche le relazioni sociali, per questo difetto, tra virgolette, perché poi magari alla fine agli occhi degli adulti non è così importante. Dall'altra parte abbiamo tutto quel filone di cui magari parleremo in un'altra intervista, del controllo del peso, quindi soprattutto le ragazze che si vedono grasse quando magari non lo sono e che quindi con restrizioni caloriche, il controllo del peso allo specchio, eccessiva attività fisica, piuttosto che uso di lassativi e tutto quello che poi segue perché poi più si va avanti con l'età purtroppo più, se c'è questo disturbo, possono subentrare altri comportamenti. Quindi parliamo di anoressia nervosa e in questo caso siamo proprio nella patologia. Sicuramente in questo caso è necessario ovviamente, è banale dirlo però, consultare uno specialista. Ecco, quanto conta il giudizio degli altri in tutto questo? Mi viene da dire è fondamentale, perché noi vogliamo essere qualcosa che non siamo per sentirci accettati, per essere parte di un gruppo. Entriamo anche un po' nel contesto del conformismo tipico della nostra società. Assolutamente, anche l'adulto lo è, il ragazzino a quell'età ancora di più ha bisogno di essere accettato, di essere incluso nel gruppo dei pari e spesso per farlo cerca di assomigliare agli altri. Quindi ho detto prima, le modi, i comportamenti tipici, mi pettino come l'amico, hanno tutti il cellulare, voglio anche io il cellulare. Insomma, cercano di essere come tutti gli altri, mentre la fase di individuazione sicuramente seguirà dopo, nella fase più avanzata dell'adolescenza. In conclusione, i genitori, che magari ci stanno anche seguendo, come possono aiutare a fare soprattutto prevenzione? Perché è importante trasmettere invece dei valori solidi, reali, che si discostino, almeno in parte, da quei modelli che vediamo tutti i giorni sui social, in televisione, nel mondo in genere. Perché poi effettivamente anche a scuola, dalla relazione con gli altri, scaturisce questo. Sì, assolutamente. I genitori non devono dare questa eccessiva centratura sulla fisicità. Già il ragazzo è attento al cambiamento, si vede diverso, i ragazzi lo commentano, lo criticano, quindi spostare un attimino quello che è l'aspetto corporeo, anche se c'è un sovrappeso, ad esempio ne parlavamo qualche intervista fa, piuttosto mostro un modello diverso. Cioè mangiamo qualcosa di sano a tavola, ti faccio vedere uno stile di vita diverso, ti trasferisco dei valori che io ho preso e che voglio trasmetterti, piuttosto di farti sentire sbagliato e che devi fare una dieta. Quindi questa è la prima cosa, non esporre un giudizio. Dall'altra, porsi in un ascolto emotivo col ragazzo. Cioè non stancarci mai, anche se il ragazzo chiede quegli spazi di privacy, di ritiro che sono tipici di questa età, non stancarci mai di avere uno sguardo attento seppur partecipe ai cambiamenti di questa fase molto particolare della vita. Silvia, io ti ringrazio per essere stata con me anche oggi perché porti sempre degli argomenti sicuramente interessanti e soprattutto attuali. Ci rivediamo alla prossima di Nasce, Cresce e Impara, continueremo ad affrontare poi quando tu tornerai a trovarci le tematiche legate all'adolescenza, ovviamente anche alla preadolescenza. Assolutamente, ci sono ancora tante cose da dire, è veramente una fase della vita piena di cambiamenti, quindi ci tengo molto. Grazie a tutti. Grazie Silvia Colizzi. Il nostro pomeriggio insieme è terminato, come è terminata anche la nostra settimana. Ringrazio Roberta Inberti in regia, vi do l'appuntamento con tutti i programmi di Stella TV, non cambiate canale. pomeriggio 216, torna martedì dalle 17.30 alle 19 con Barbara Caramelli, mentre noi ci rivediamo poi mercoledì. Buon proseguimento di serata e soprattutto buon fine settimana a tutti voi. Ciao. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.